una rivoluzione re de nova la calza veramente diversa è elasticissima non fa borse non fa grinze perché è una calza ad aderenza totale è velatissima con punta rimagliata e in tanti brillanti colori calza re de nova arriva dove volete perché è infilato poli estensivo re de nova costa solo 500 lire ed è disponibile anche nel tipo calzamaglia a lire 950 re de le calze famose nel mondo